Musica Si è svolta ieri al Palazzo del Vescovo ad Ascoli Piceno la conferenza stampa di presentazione di una serie di eventi per i cento anni dalla nascita di Madre Teresa, quattro giorni intensi per celebrare il centenario della nascita di Madre Teresa di Calcutta, quattro momenti di solidarietà, preghiera e spettacolo per trasmettere anche da Ascoli i messaggi d'amori della piccola missionaria albanese, premio Nobel della pace, teatro degli incontri, saranno gli angoli più belli della città, dalla cattedrale alla chiesa di San Venanzio, da Palazzo dei Capitani alle vie del centro storico, in un fiorire di cultura, fede, emozioni e carità. Si partirà sabato 21 maggio nella sala della ragione del Palazzo dei Capitani, martedì 31 maggio poi nella chiesa di San Venanzio. Il primo giugno si partirà dalla cattedrale per una fiaccolata e infine il due giugno nella chiesa di San Venanzio.